Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, è gratis anche il gruppo Telegram, link in descrizione e qui trovi l'Instagram di Neapolis 1926, vieni a trovarmi anche lì, è gratis Udinese-Napoli, il giorno dopo ragazzi, che dire, è stata una serata perfetta quella di ieri sera contro Udinese è inutile, è innegabile ragazzi, è la gioia di rivedere il Napoli dopo tre anni riuscire a giocare a calcio, riuscire a creare schemi, riuscire a vedere in modo concreto la mano di un allenatore sono passati tre anni, il Napoli che giocava così bene non lo vedevo dai tempi di Sarri e non lo nego, Ancelotti non ci è riuscito, Gattuso non ci è riuscito, ci sta riuscendo Luciano Spalletti siamo alla quarta di campionato, è vero, ma per ora siamo in primi, in solitaria da soli, soli, soletti, in cima alla classifica di Serie A non so quanto durerà, quanto durerà due mesi, un mese, tre giornate, altre due giornate, non mi interessa per ora siamo primi, mi godo il momento, mi godo l'espressione del Napoli, il modo di giocare del Napoli la voglia che ci mette il Napoli a giocare perché sono tre anni che stiamo subendo questa angoscia di non vedere il Napoli giocare, di non vedere il Napoli che si diverte e soprattutto noi tifosi che non ci divertiamo, sono tre anni che veniamo da disastri, punto, basta a livello societario, a livello di gestione della squadra è arrivato Spalletti, siamo primi in classifica, godiamoci il momento quanto dura dura ragazzi, comunque andiamo un po' all'analisi di ieri sera l'unica nota negativa di ieri può essere stato l'erroraccio di Ospina e io l'ho detto, non vorrei vedere altri errori individuali Ospina stava per fare un errore individuale, abbastanza serio perché De Lofeo ha fatto la stessa cosa che ha fatto contro la Juventus pressione alta dell'Udinese De Lofeo tocca, sporca la palla, ad Ospina riesce a riprendergli la palla sono stati bravi i difensori a coprire subito lo specchio della porta e portare De Lofeo verso l'esterno che poi ha tirato ugualmente ma Ospina si è fatto trovare pronto se vogliamo parlare proprio del reparto difensivo hanno fatto tutti un partitone, Di Lorenzo un partitone, Mario Rui un partitone ma poi trovi Rachmani e Koulibaly la coppia che non ti aspetti perché io davo per titolare Manolas invece non è stato è stato dato in partenza Rachmani e Koulibaly e Luciano Spaletti ci ha azzeccato ha visto che all'Eister hanno fatto una signora partita ed è giusto dare continuità a Rachmani io l'ho sempre detto se Manolas non vuole più giocare a Napoli perché ci sta sta pensando all'Olimpia Costa sta pensando di tornare in Grecia ma Costas lo sappiamo ti sei scocciato di stare a Napoli ma sei in rosa e quando giochi ti devi far trovare pronto non so se hai avuto qualche infortunio qualche estinamento nel pre-partita o durante l'allenamento non lo so io comunque ho acceso il telefonino perché ero a lavoro e ho visto che stavano giocando Rachmani e Koulibaly scelta azzeccatissima ragazzi ad oggi è la coppia migliore che il Napoli possa offrire fino ad ora io l'ho sempre detto Rachmani va sostenuto ci sta va all'errore perché è normale va fatto giocare va fatto presentare confidenza con i giocatori con il tuo amico di reparto e quindi Spalletti sta agendo proprio in questo ambito sta prendendo come l'ha detto anche Lorenzo Insigne nel post partita Spalletti ci prende singolarmente ci parla a uno poi ci parla a quell'altro no fa un gruppo unito diamine però poi ci prende per parte ci dice devi fare così devi fare così e devi fare così ed è giustissimo ragazzi e la coppia Koulibaly-Rakmani va funziona funziona veramente alla grande e poi vogliamo parlare dei centrocampisti? ragazzi la coppia Fabian-Anguissa io la prima volta di si vabbè Fabian Nellento-Anguissa dai video è abbastanza veloce le lacune che non c'ha Fabian Ruiz ci mette una pezza Anguissa ragazzi Anguissa giunto gli ha fatto un signor colpo perché Anguissa è un calciatore veramente straordinario cioè ieri all'ottantesimo è tornato in difesa si è preso una palla si è preso Gomi Dati si è preso di tutto Anguissa è forse dai tempi di Gargano che non vedo un un difensore un difensore un centrocampista scusatemi in quel modo cioè ci sputa l'anima ragazzi è una cosa allucinante questo giocatore Fabian che è è un Fabian Ruiz quello di ieri è stato micidiale ha preso anche un palo meritava il gol per le azioni che ha fatto per il gioco che ha espresso però quando poi c'è la ripartenza che deve rincorrere l'avversario sappiamo che è lento e non ce la fa e però c'è Anguissa a fianco a lui che gli dà veramente una mano incredibile e detto questo passiamo un po' al reparto offensivo di ieri sera io ho visto un reparto offensivo veramente veramente pimpante e veramente pimpante perché? perché Politano ha fatto un inizio di campionato stratosferico e si è dimostrato anche ieri su quei livelli che ha dei livelli clamorosi Politano addirittura ieri ha scartato il difensore esterno è andato verso il centro dell'area di rigore ha fatto la finta di tirare il difensore è scivolato lui si era spostata perché voleva andare al tiro e si è arrabbiato perché non è riuscito a tirare queste sono cose che ti fanno emozionare vedi i giocatori che si stanno attaccando veramente alla maglia e al progetto di Luciano Spalletti Elmas che ragazzi con quel 7 sulle spalle con quei capelli lunghi sembra di rivedere Cavani cioè non prendete le mie parole come oddio cazzeria hai paragonato Elmas a Cavani no il taglio di capelli al numero 7 sulle spalle fanno ricordare al Matador Cavani non è il Matador però Elmas io l'ho sempre è un diamante grezzo e va valorizzato Spalletti sta valorizzando il gruppo e fa benissimo ragazzi il gruppo ne sta si sta unendo in qualcosa di unico secondo me e poi passiamo a Lorenzo Insignia al capitano Insignia anche ieri prestazione super e se non fosse stato proprio per Rosyman che gli ha levato il gol ma io già l'ho detto nel video di ieri del post partita anche se il post partita è stato un video velocissimo ragazzi fatto male in macchina mi dispiace per la qualità del video e dell'audio di ieri sera ma lo dovevo far uscire subito Insignia che anche lì è un motivatore in campo Insignia è sempre lì che ti motiva è sempre lì che dà una mano ai compagni torna in difesa lo ritrovi in attacco è veramente un gruppo unito e quella di ieri sera è stata la conferma io tremevo scusatemi in un tracollo del Napoli ma a livello fisico e psicologico perché l'Ester addirittura ha perso la partita sua di Premier League per 2 a 1 fuori casa se non erro e ho detto stai a vedere il Napoli stasera fa la stessa cosa entra in campo deconcentrato perché non ha forza perché si è spompato all'Ester e invece no c'è stata la svolta sul piano tattico ragazzi e questo fa bene alla squadra Luciano Spalletti è un allenatore che sa valorizzare tutti i giocatori addirittura ha fatto esordire Zanoli io spero che questo giocatore possa trarne vantaggio di giocare sempre di farlo giocare più spesso ragazzi perché questo giocatore va valorizzato è un giovane della primavera ma va valorizzato perché molti giovani a Napoli anche nel settore giovanile avevamo tanti giocatori importanti nel settore giovanile li abbiamo sempre svenduti non gli abbiamo dato mai fiducia vedi anche Gaetano che l'hanno mandato un'altra volta in prestito però piano piano Gaetano si troverà il suo spazio in questo Napoli detto questo ora testa alla Samp perché la prossima partita è proprio con la Samp partita tosta è tostissima con la Samp la Samp che ha fermato l'Inter ha vinto con l'Empoli con un netto 3 a 0 quindi occhio perché puoi giocare a Genova ragazzi io do sempre giocare a Genova non è mai semplice per qualsiasi squadra o vuoi che il campo gli spazi sono vicini al campo vuoi che i giocatori ci mettono l'anima quando trovano le big è una partita complicata però ci arriviamo da primi in classifica e io ci vorrei stare un mese due mesi due tre partite l'importante è starci abbiamo mandato la Juve a meno 10 meno 10 alla quarta di campionato è qualcosa di importante ragazzi poi ha preso vantaggio sia sulla Roma sull'Inter e sul Milan e sulla Lazio la prossima è Fiorentina Inter quindi scontro diretto fra loro due che si scannano un bel pareggio una bella vittoria della Fiorentina la Fiorentina mi piace veramente tanto sono amante di questa Fiorentina di come gioca a calcio la Fiorentina l'italiano è un grande allenatore l'ha dimostrata con lo Spezia e ora lo sta dimostrando con la Fiorentina detto questo chiudiamo qui il video se no viene un video troppo lungo sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 ciao a Ju